Automatic Caption, cioè traduzione automatica dei sottotitoli. Quindi se io voglio far apparire quei sottotitoli andrò sulla rotellina di impostazioni, italiano generati automaticamente e vedrò, specialmente in questo video, se li ho inseriti manualmente, apparire i sottotitoli che io, ovviamente, ripeto, ho inserito. In questo caso sono inglese, italiano, spagnolo. Però se io voglio un'altra lingua, non faccio altro che cliccare su traduzione automatica e io avrò la possibilità di avere tantissime lingue a disposizione. Ecco, io volevo sapere, siccome non ho trovato dei passaggi altrettanto semplici sia su Android che su iPad, volevo sapere se voi li avevate trovati e potevate suggerirli ai nostri amici stranieri che ci stanno ascoltando. Quindi vi rinnovo l'appuntamento a sabato e buona giornata a tutti e a tutte. Grazie.